Non ho mai conosciuto una donna come te. Tu sei la donna che ogni uomo vorrebbe accanto. Tu sei bella, sei dolce, ma sai anche essere forte. Tu per me racchiudi tutte le donne insieme. E poi? Bella e buona? Non si fanno sentire, non si fanno vedere, scombarono, trovano scuse. Ma allora che è successo? Scusa, ti hai imparato solo la prima parte del film? Il secondo tempo dei film d'amore non te l'hai mai visto? No, secondo me non sono mai arrivata a avere il secondo tempo, sono addormuto troppo il primo tempo. Amica mia, quello che ti voglio dire, non credere alle parole degli uomini, ma neanche agli uomini delle donne, perché hai le parole, devono seguire i fatti. È inutile che ti dico sia la vita, sia il cuore e poi non ti calcolo proprio e voglio stare lontano. Perché l'amore è dipendenza, l'amore ti consuma, l'amore vuole il contatto. Quindi, la risposta, secondo me, alla tua domanda, qual è? Ma non è che tu vuoi dire una cosa, però io dico sempre, meglio una cruda verità che una bella buscina, perché è inutile che ti dico, no, guarda, sicuramente avrà dei problemi, guarda, probabilmente avrà rapito un alieno, ha problemi di lavoro. No, non è vero, perché quando una persona la tiene qua e poi la tiene qua, non ce la fai, la vorrei, la sentire, la chiamare, la contattare. Quindi, se non c'è tutto questo, voglio pure capire il bagaglio di delusione o bagaglio di sofferenza, perché per carità tutto quanto teniamo, però se lui arriva a conoscerti, se voi arrivate ad avere un contatto, una conoscenza, vuol dire che già qualcosa è successo, ok? Quindi se già quel qualcosa, parla a livello sentimentale, è successo, vuol dire che è molto semplice, o se ti ha acchiappato o non ti ha acchiappato, quindi probabilmente ti sta facendo come un panino, cioè ti sta tenendo in caldo, hai capito? Magari se avranno una poche situazioni, se diciamo che sta a bambino con due parole e nel frattempo vedi che fatemi, se non trovo di meglio, torno là, hai capito? Eh, ma tu non si lessi, questa casa non aspetta a te, hai capito? Quindi tu fai una bella cosa, Diggi, ma io sono una donna che incarna tutte le donne o tutte le donne incarnano a me? Cioè fammi capire, capi, giusto per capire, perché se non capimmo, capimmo, capito? Oppure semplicemente, sai che facessi scomparire proprio? No, veramente, ci si sente, fai una cosa, tu quando sei riuscito a trovare tutte le donne che sono a me, fammi sapere, fammi un scuolo, se ci sono, non ci sono problemi, se non ci sono, è se faccienza, capito? Buona vita, cara amica, l'amore è una cosa semplice.